Solo il 3,6% delle imprese modenesi è iscritta nelle white list, ovvero l'elenco delle aziende non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa. A dirlo è la CGL che denuncia la freddezza da parte degli imprenditori nell'entrare in un elenco che rappresenta una garanzia per la regolarità e la trasparenza aziendale. Ci dobbiamo tutti interrogare come sindacato, come associazioni delle imprese, come istituzioni locali il perché e quindi attivarci ciascuno dal proprio punto di vista, ciascuno col proprio radicamento sociale e nel tessuto dell'economia per spingere le imprese modenesi, le imprese di questi nostri territori anche nell'Emilia Romagna ad accedere a questo strumento delle white list, che è uno strumento gratuito, che non costa niente le imprese e che rappresenta un fatto assolutamente positivo. Iscriversi alle white list è gratuito e non obbligatorio, basta presentare la richiesta in prefettura e attendere tutte le verifiche del caso, ma nonostante non sia affatto difficile accedere all'elenco, il marchio di azienda verificata e pulita non sembra essere molto popolare, eppure nel nostro territorio di strumenti preventivi di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico ce ne sarebbe bisogno. Secondo l'ultimo report semestrale della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, la nostra regione è infatti sesta in Italia per numero di imprese oggetto di interdittiva antimafia. È uno strumento questo che se fosse di più e meglio utilizzato dal nostro sistema imprenditoriale darebbe un segnale assolutamente trasparente, positivo, trainante, rispetto alla prevenzione reale, concreta, quotidiana, prevenzione all'economia malavitosa, che purtroppo anche questi nostri territori, tutta una serie di inchieste, di indagini attuali, confermano essere in espansione. Grazie a tutti.